Un manifesto per una nuova forma partito, nuova quindi significa che qualcosa è da correggere e da cambiare rispetto a quanto fatto fino ad oggi? Innanzitutto ci siamo posti la domanda cos'è un partito in un mondo che sta cambiando così velocemente. Noi siamo un partito giovane, nato sette anni fa e sicuramente alcune cose vanno modificate. Abbiamo deciso di riportare l'organizzazione del partito lì dove vengono fatte le scelte politiche. Penso alle unioni dei comuni per la gestione dei servizi oppure penso alla necessità di coordinamenti di area vasta. Siamo già partiti in questi mesi, i primi coordinamenti sono già attivi. Ora serve riorganizzare il partito anche a sostegno dei comitati per il sì per il referendum perché questa è la sfida di quest'anno. Noi abbiamo deciso di investire tanto sulla formazione politica, lo facciamo da subito anche per le tematiche legate al referendum. Insomma un partito nuovo, un partito moderno, un partito che vuole tenere insieme da un lato gli iscritti e dagli altri gli elettori. Tenete conto che qualche mese fa si diceva che non avremmo raggiunto lo stesso livello di iscritti dello scorso anno. Invece lo raggiungeremo, ci saranno alcune federazioni in cui questi dati saranno anche migliori rispetto allo scorso anno. Ma questa non è l'unica forma di militanza perché basta ricordare i 600.000 italiani che hanno deciso di versare il loro contributo, il 2 per 1000 e sostegno al partito. Insomma un partito che da un lato valorizza gli iscritti e dall'altro da forze militanti.